Oggi la tredicesima edizione del PMI Day 2022, la giornata nazionale che ha la finalità di promuovere la cultura di impresa. Ci colleghiamo con Antonio Braia, presidente del comitato Piccola Industria di Basilicata e vicepresidente Piccola Industria di Confindustria. In viaggio verso Potenza lo abbiamo bloccato per qualche minuto. Grazie innanzitutto per questa sua estrema disponibilità. Ci racconta cosa accade oggi tra Potenza, Matera e Melfi? Buongiorno a tutti, grazie a voi, buongiorno Antonella. Oggi è una giornata molto bella perché apriamo le nostre aziende agli studenti delle quinte classi. Quindi diventa un momento davvero importante di confronto, di scambio, di momenti in cui portano le aziende a farsi riconoscere per la bellezza. Infatti il tema è proprio quello della bellezza e del saper fare italiano. L'obiettivo è quello di far vedere quanto di bello si costruisce, si valorizza e si sviluppa all'interno delle nostre aziende della Basilicata. Abbiamo scelto tre importanti realtà virtuose della nostra terra. Come dicevi prima, io sono ora in direzione Potenza, poi andremo a Melfi. E in contemporanea anche Matera. Quindi avremo l'apertura di tre aziende, la CS Tendaggi, l'Antesa Tipografi su Matera e su Melfi la DR Corporation. Tre realtà differenti che porteranno un confronto proattivo, come piace dire a noi, con i ragazzi delle quinte, in maniera tale da valorizzare quello che per noi è fondamentale, un percorso che porti i nostri ragazzi ad essere consapevoli da una parte delle scelte, della scelta universitaria e ancora di più conoscere invece quel grande mondo del lavoro in maniera tale da poter facilitare il loro inserimento all'interno delle nostre aziende, per competenza e per passione. Quindi Potenza, Matera e Melfi? Quindi Potenza, Matera e Melfi. Abbiamo cercato di coprire la nostra Basilicata, avremo quindi, io ritengo che sono momenti in cui la Confindustria, la piccola industria che è da, ormai siamo alla tredicesima, come dicevi te prima, può mettere, immaginiamo che sono stati 425 mila i ragazzi incontrati in questi anni. Quindi un patrimonio enorme, noi dobbiamo essere ancora più responsabili nel far di quel percorso chiamato PCTO, un grande valore, ma soprattutto un momento in cui i ragazzi possano sentirsi a casa all'interno delle nostre aziende e far vedere e anche togliere un po' quel preconcetto legato alle industrie grigie, quando invece le nostre industrie sono belle, orientate sempre più al benessere dei propri collaboratori, quindi all'Uennes, è sempre più orientate a valorizzare innovazione, design, cultura d'impresa, questa è anche la settimana della cultura d'impresa che abbiamo messo a valore in Confindustria, in maniera tale da costruire insieme, termine a noi tanto caro, un futuro che possa permetterci di ricostruire, di rilanciare le nostre aziende, grazie proprio all'inserimento di nuovi talenti e dei giovani. Grazie ad Antonio Braia, Presidente del Comitato Piccola Industria di Basilicata e Vice Presidente Piccola Industria di Confindustria in viaggio verso Potenza, allora buon PMI Day e buona giornata. Grazie, grazie a voi, buona giornata e buon PMI Day.